Buongiorno, ecco il prodotto, vado a far notare il dettaglio del filtrino, anti appannamento, si possono montare e smontare tutti, si può anche smontare tutta la guarnizioncina, tirare fuori la plastica davanti e pulirla bene, l'elastico è di qualità sufficiente, di per sé tutto il prodotto è di qualità sufficiente, quindi fa egregiamente il suo lavoro, ovvio che non è una maschera professionale e non è una maschera che durerà per sempre, perché comunque è economica, di conseguenza non dico che sia una usegetta, però è utilizzabile qualche volta, non di più.